Ciao a tutti, grazie all'Ent facciamo delle cose cool, come circuiti con molti piccoli parti. Ma il soldo in SMD può essere un dolore, soprattutto per le persone che si truagano a vedere piccoli cose come me. Per molti persone la soluzione a questo problema è un oveno di rinforzamento. Nell'internet ci sono molti progetti per convertire un oveno di compagno a rinforzamento di circuiti di SMD. E vogliamo provare a costruire uno. Come si tratta, in un modo di rinforzamento. Questo video è la prima parte del progetto, in cui si concentrano sulle elettroniche elettroniche che utilizziamo per controllare gli elementi di calcio di energia di alta volta. Nella seconda parte, che sarà in un altro video, mostreremo la strada di controllo e l'interfaccia di usare del progetto. Ma prima di continuare, vogliamo dire grazie alle persone che ci sostenono e al nostro sponsor, PCBWay, un servizio di prototipo di PCB professionale. Ok, Mattia, ma perché dobbiamo controllare gli elementi di calcio dell'oveno? Non possiamo farlo manualmente? No, non possiamo. Perché per fare un buon soluzione, il profilo termale è molto importante. Un controllo di temperatura preciso durante la fase di calcio darà risultati che sono ripetibili e con buona qualità. Per controllare gli elementi di calcio, abbiamo usato un schermo abbastanza semplice che coinvolge l'uso di un triac. Possiamo dividere la schematica in tre blocchi, mangiamento di calcio, triac drive con opto-insolazione e sincronizzazione di linea zero-crossing. Nel mangiamento di calcio di calcio, abbiamo scelto di usare un modulo monolitico AC-DC converter. Questo modulo costa meno di un singolo componente e garantisce un'insolazione ottimale della linea. La funzione principale di questo modulo è di aggiungere il valore corretto al controllo del progetto. Questo schermo semplice di calcio ci permette di controllare il triac in un modo sicuro. Abbiamo scelto di controllare l'opto-insolatore diretto direttamente, perché la maggior parte dei microcontrolli moderni sono capabili di guidare il calcio necessario e questo schermo può essere usato con vari valori di input. Il componente che stiamo utilizzando è il MOC23 che ha una correnta di solo 5 mA. Questa parte del circuito genera un signale sincronizzato con gli eventi di zero-crossing dell'attività di linea AC. La sincronizzazione con l'attività di linea AC permette di controllare finalmente l'attività di trasferimento ai elementi di calcio, cambiando il triac per una parte della semi-perioda. Questo tipo di modulo non è critico di design e è abbastanza semplice. L'unico aspetto per mantenere in mente è la separazione tra la parte di alto-voltaggio e la parte di alto-voltaggio controllo. Oltre che l'attività è stata creata usando la tecnica di milling e il coperto non è completamente scoperto, abbiamo inserito l'installazione con i pochi che si splittano due parti dell'attività. Il miglior modo sarebbe di risolvere il coperto excedente. Anche se questa parte è facile da milling, per essere sicuro potresti lo produrre da una manufattura di PCB professionale che può garantire la qualità e la sicurezza. Mettere l'ordine del vostro PCB è semplice e conveniente. Vai a www.pcbway.com, inserita le dimensioni del vostro PCB, scegliere la quantità e premere il quattro ora. Le opzioni di default di questa pagina sono adeguate per la maggior parte dei nostri progetti e li guidiamo come sono e procediamo all'ordine. Se registrivi sul sito potete avere avvantaggi e la procedura è più facile e più facile. Non dimenticate di specificare il vostro addirittura nel vostro settore profilo. Prima di completare il check-out, inserite i file gerber del vostro porto. Abbiamo inserito i nostri porti e, come puoi vedere, sono molto buoni. Per il test sul nostro oven, usiamo il porto di mille, ma per il equipamento finito, useremo definitivamente le porti del PCB. Il porto è abbastanza facile da collegare. Ci sono la parte di potenza e le connessioni di controllo. Nel porto di potenza, il porto sostituita completamente le elettroniche di oven, prendendo come input l'acqua di linea di potenza e, come output, il contatto ai elementi di calcio. Il porto di controllo è collegato con 4 porti, che sono 5 porti di potenza, l'interno, il segno di triggere e il segno di sincronizzazione. Abbiamo già esperimentato con la parte controllo, scrivendo la maggior parte del film controllo, ma per creare questo circuito controllo, bisogna delle componenti. in questo momento, due alla situazione corretta e difficoltà, non siamo capiti di ottenere le componenti elettroniche necessarie, quindi questo circuito sarà realizzato più tardi. Ovviamente questo non è un problema reale, l'importante è che tutti stanno mantenendo sicuro, e speriamo che la situazione sia migliore in breve, per tutti in un grande paese. Vi mostro un breve test del oven controllo con le nostre elettroniche. e questo è tutto per oggi. Ascrivetevi, pressate la bellissima notificazione e restate sicuro. Grazie per la visione e ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Ciao!